Un 8 dicembre carico di significati per la Chiesa di Palermo, innanzitutto perché il nuovo arcivescovo, Monsignor Corrado Lorefice, per la prima volta prende parte al denso programma di celebrazioni per l'Immacolata Concezione, questa mattina nella Basilica di San Francesco d'Assisi, l'omaggio poi alla statua dell'Immacolata in Piazza San Domenico, il pontificale in cattedrale, poi la processione pomeridiana con il discorso alla città. E' una giornata carica di significati, dicevamo, anche perché tutto questo avviene in contemporanea con l'apertura della Porta Santa in avvio dell'anno giubilare straordinario voluto da Papa Francesco. Qual è il significato di questa Porta Santa? Monsignor Lorefice al nostro microfono ha ribadito alcuni dei passaggi del suo discorso di insediamento, sabato scorso in cattedrale. Sostanzialmente ha detto che la Porta Santa sia quella che ogni giorno si apre da parte di ciascuno di noi. Sentiamo. Questo è lo stile del cristiano, avere sempre un cuore aperto, per cui il simbolo della Porta Santa dice intanto l'identità della Chiesa, che è una porta aperta per tutti, e ricordo a tutti gli uomini che dobbiamo avere sempre questo cuore spalancato per tutti, perché sia un cuore inclusivo che non esclude mai nessuno, perché questo è il Dio che noi abbiamo imparato a conoscere in Gesù, il Dio che accoglie tutti. Lei ha anche chiamato a raccolta, mi passi il termine, tutte le tessere della Chiesa di Palermo nel suo discorso di insediamento, ha chiesto praticamente a ciascuno di fare la propria parte, movimenti, associazioni, i sacerdoti naturalmente, tutti coloro che devono lavorare insieme. È un messaggio che oggi possiamo rilanciare ancora una volta con forza? È certo, perché una diocesi non è costituita dal Vescovo. Il Vescovo ha senso perché c'è una comunione che bisogna esercitare, mettere in atto. La Chiesa è comunione, dal suo stesso termine, ecclesia è questa convocazione. Nel DNA della Chiesa c'è questa dimensione sinodale. Il Vescovo serve la comunione di tutti questi carismi, di tutti questi doni che devono essere messi al servizio dell'unico Vangelo, che gli uomini attendono. Sia perché il Vangelo riesce a cogliere le ansie e le gioie di ogni uomo, ma sia perché il Vangelo può essere condiviso da tutti, perché ci ricorda in fondo gli alti valori umani. Al Vangelo possono attingere tutti, non solo i cristiani. Quando non si annuncia il Vangelo, cosa succede? Succede che la Chiesa ha la tentazione di riflettere una luce sua propria ed è il momento in cui diventa più buia. Succede che la Chiesa ha la tentazione di riflettere una luce.